...culturale sia delle antiche istituzioni sacrificate, fondamentali in tutte le società quindi dire antiche e pre-moderne, sia dei riti di passaggio socialmente accettati, riti legati alla nascita, riti di iniziazione dell'età adulta, riti matrimoniali, riti funerali, uno degli ultimi, tra questi riti passati in questo caso, pesanti in realtà, che negli ultimi trent'anni è stato progressivamente destituito di senso da schiere di pedagogisti e psicologi che con l'apparentemente nobile intento di evitare traumi agli studenti agli adolescenti. Senza comprendere il ruolo fondamentale del trauma e delle esperienze traumatiche all'interno di quelle istituzioni sacrificate, dei riti di passaggio, in tutte le società precedenti. ora, toglia questa demolizione, pensando proprio ai riti di passaggio, la demolizione sociale dei riti di passaggio sono di accesso eliminati, li ha solo esclusi dalla visibilità pubblica perché essi continuamente si producono forme anonime, parascotiche, nascoste e pericolose. Io mi riferisco in particolare ai riti di iniziazione tra giovani, tra adolescenti. Questo è il primo macro problema, dicevo, in cui siamo e in cui si muovono anche questi artisti in cui vi parlerò. L'altro problema è la crisi ecologica, che nel giro di pochi anni ha assunto il doppio e inquietante aspetto quello del global warning e dello spiologico. Global warning è il scaldamento globale, spiologico è il salto di specie, di virus, batteri, prionica, animali, la specie animale alla specie umana. In entrambi i casi noi ci troviamo a fare direttamente i conti con importanti sintomi della crisi dell'epoca neolitica perché questa crisi potrà anche durare centinaia di anni, se no millenni, che è la crisi in cui siamo. Il riscaldamento globale, in base alle teorie diciamo più accreditate, quelle più equilibrate e convincenti che è il risultato di una convergenza da quella che viene chiamata l'antropocene e quell'epoca geologica che viene denominata dai geologi, Oceani. Che cos'è l'antropocene? L'antropocene è anche un altro nome per indicare proprio l'epoca neolitica. Però è un nome che mette in risalto il peso delle attività economiche umane, il peso che queste attività hanno avuto sul riscaldamento climatico. A partire dalle origini dell'agricoltura e dell'allenamento, fino alle accelerazioni, ci sono due accelerazioni e gli studiosi hanno ovviamente individuato quella, diciamo, di fine Settecento, inizio Ottocento, inizialismo in quella di metà neocento e dal sviluppo dell'economia, diciamo delle centrali nucleari. L'Oceani invece che cos'è? È un periodo geologico di fatto coincidente con il Neolipico, però è un periodo geologico definito, caratterizzato da una relativa stabilità climatica che ha consentito, ovviamente, il rostanziarsi innanzitutto in metodologia dei gruppi umani prima, diciamo, che nel paleolitico sostanzialmente vivevano come nomadi o seminomadi. Quindi il scaldamento globale, secondo queste teorie più efficienti, più convincenti e più equilibrate, è diverente da questo incrocio tra un elemento antropico e un elemento geologico, tra un elemento che ha a che fare con le attività umane e un elemento che non ha niente a che fare con l'attività umana e che invece ha a che fare con la storia della natura. Invece l'altro aspetto della crisi ecologica, dicevo, la crisi ecologica in questi anni ha assunto un doppio aspetto, è quello degli spillover. Ovviamente in questi mesi si è parlato molto, naturalmente, in relazione al Covid, di cosa siano gli spillover, ma gli spillover iniziano con un neolitico e iniziano con una, hanno origine in una delle più importanti innovazioni del neolitico, dell'epoca neolitica, che è l'allevamento e addomesticamento degli animali, ovini, povini, suini e polli innanzitutto non sono. Per esempio sappiamo tutti che il morbillo è un spillover, è uno spillover che accade, secondo gli storici, delle epidemie intorno all'1100 in Europa, ma ce ne sono tantissime ed è molto probabile che l'epoca che, diciamo, i prossimi anni saranno anni in cui situazioni simili a quelle che stiamo vivendo diventeranno situazioni non proprio normali, ma insomma quasi. Cioè ci saranno, è possibile che ci saranno altri spillover, perché i spillover esistono da quando c'è, appunto, da quando c'è l'eolitico. Il terzo problema, di cui credito, che accenno solamente perché quello che è più conosciuto è quello sviluppo della tecnoscienza, accelerato a partire dalla rivoluzione informatica fino appunto agli scenari recentissimi aperti dalla biogeneria, dalla genetica, dall'intelligenza artificiale, dalle tecnologie 5G che consentono quello che viene chiamato l'internet degli oggetti, eccetera, eccetera. Faccio ora un passo avanti verso l'argomento della mia conferenza, perché l'intreccio di questi problemi, ne ho citato tre maio problemi, ha condotto, tra i tanti effetti, alla definitiva crisi della nozione moderna di arte. Secondo la quale l'arte è soprattutto legata a un'opera d'arte, un'opera in cui è esposto un mondo, per dirla con l'espressione di Heide, che è un mondo simbolico, a sua volta infinitamente interpretabile. Questa è la prima caratteristica. La seconda caratteristica è che l'arte, essendo legata a un'opera d'arte, sia una espressione spirituale di un artista. Terza caratteristica dell'arte, che fa parte di questa concezione moderna delle arti che entra in crisi, è che l'arte sia un fenomeno sostanzialmente unitario, che non ci siano le arti che hanno anche funzioni, storicamente funzioni, hanno anche funzioni molto diverse, ma che ci sia l'arte. E che la distinzione tra le arti sia una distinzione pragmatica, come lo aveva anche il buon Benedetto Croce. L'ultima caratteristica è appunto questa concezione moderna dell'arte, che non solo l'arte abbia a che fare con un'opera d'arte, che sia un'espressione spirituale di un artista, che sia un fenomeno unitario e che l'arte abbia a che fare con quelle categorie che tra l'altro sono definite per la prima volta, in senso proprio nel Settecento, che sono il bello e il sublime. Ora, questa concezione dell'arte nasce storicamente nel Rinascimento ed entra, a mio avviso, definitivamente, ma non solo a mio avviso, insomma, ci sono ormai biblioteche scritte su queste cose, definitivamente in crisi con la fine delle cosiddette all'anguagra artistica del Novecento. Se ci vogliamo mettere dentro anche, tra le anguagra artistiche, anche la poppa, fino alla poppa, diciamo, degli anni 50-60. Voglio dire anche che quello che nel chiacchiericcio mediatico internazionale, non solo un nazionale, passano come i tratti universali dell'arte, sono solo delle sue caratteristiche storiche che hanno la loro relativa validità solo in riferimento alle opere d'arte moderne. Prima di tale epoca moderna, le arti rispondevano a funzioni differenti, le varie arti. Ad esempio, molte di esse erano sostanzialmente legate alla sfera del sardo, che era quella delle religioni. dopo l'epoca moderna, quindi nella nostra contemporaneità caratterizzata da quei problemi di cui parlavo prima, di cui accennavo prima, le sperimentazioni artistiche che vogliono essere, restare in contatto con i problemi, siano essi risultibili o no, sono diventate tutta altra cosa, rispetto a quello che noi possiamo chiamare, gli storici chiamano concezione moderna dell'arte. Ovviamente questa tesi di ordine generale, nonché le cose che adesso dimostrerò, e dimostrerò alcune cose, non escludono che il settore moderno delle arti continui a proliferare come settore dell'industria culturale contemporanea, ne escludono ovviamente che all'interno dei settori tradizionali delle arti si produrrano opere ancora oggi, opere di grande creatività culturale. Però qui siamo a uno dei punti, forse il primo, il più importante. Chi ci dice che le sperimentazioni artistiche contemporanee abbiano a che fare con la cultura? Ovviamente è una domanda un po' provocatoria all'interno di questo luogo di cultura, che serve l'istituto di cultura, no? Se con cultura si intende quello che si intende nella modernità, cioè la cultura è qualche cosa che ha a che fare con la coltivazione, con la formazione individuale, con quello che i tedeschi chiamavano la bilbo, no? La bilbo è una caratteristica che è proprio quello che si intende costruire, no? Questa costruzione individuale, coltivazione, autoplasmazione, che diventa un ideale delle classi borghesia, europee, a partire nel Cinquecento. Se la cultura ha a che fare con ciò che Peter Zuckerberg, che è un importante filosofo tedesco contemporaneo, chiama le antropotecniche, cioè variabile quelle tecniche di autoplasmazione dell'umanità attraverso esercizi di imitazione dei classici, no? O di ciò che è unemente considerato come appartenente al mondo della cultura, allora le esperimentazioni che adesso vi mostrerò, le esperimentazioni artistiche contemporanee, non sembrerebbero farne parte, tanto da apparire a volte predictive, violente, debili, ma soprattutto elementari, cerco di spiegarli. Queste esperimentazioni mettono in evidenza, tematizzano comportamenti elementari, anche quotidiani, non riducibili ad altro e non simbolizzabili, oppure non ancora simbolizzabili. Niente di culturale, quindi nel senso di cui parlavo prima, niente di edificante, no? Niente da imitare attraverso modelli comportamentali. Dicevo, niente di edificante, innanzitutto. Bisogna prendere dalla lettera questa affermazione. Edificare significa costruire edifici, ed è facile, no? Edificio, fare, costruire, in genere, in modatura, quindi edifici stati. Nell'antichità si edificavano tempi, si edificavano città oppure palazzi. Poi per traslato, in epoca moderna, il termine edificare comincia anche ad essere utilizzato metaforicamente come nel significato dell'indurre al bene e a fare il suo esempio, compreso il bene e il bello della vostra che ha tolto, a cui accennava il professore Clemente. Allora, sarebbe molto interessante riflettere sulle differenze tra edificare un tempio oppure una città oppure un palazzo, ma ovviamente non è questo il tema di questa mia conferenza. In ogni caso, edificare ha il senso del costruire case per abitarci. Questo è il punto. Uno dei sintomi della crisi e degli urini simbolici a cui ho accennato in apertura è proprio ciò che i sociologi, gli antropologi e anche i filosofi chiamano crisi dell'abitare, che è uno dei... e che è un macro sintomo della lunga crisi dell'epoca neotipica che stiamo attraversando in quanto forma di vita, no? E che ovviamente non ha niente a che fare con la crisi degli alloggi. L'abitare per l'uomo, ma non solo per l'uomo, ma anche per molte altre specie viventi, ha almeno due caratteristiche generali. si ha due funzioni generali. La funzione della protezione dai pericoli esterni, specie durante le ore notturne, le ore in cui si è esposto, proprio perché si dorme. E poi la creazione, l'altra funzione è quella della creazione di sfere, di una sfera, bolla, in cui sentirsi a casa, lasciandosi andare a ciò che sempre Slocke richiama atteggiamento del tematizzante e innessivo. L'abitare in senso molto elementare, quindi ha a che fare con il fuori e con il dentro, con la protezione dal fuori in ospitale e con la creazione di un dentro in cui immergersi. l'abitare ha a che fare con la creazione di sfere, di isole, che abbiano almeno questa doppia funzione bio-psichica, quella di proteggere dal fuori e quella di consentire l'immersione in un dentro. Arriviamo adesso a parlare di alcune linee sperimentali contemporanee. Non è un caso che le sperimentazioni artistiche lavorino proprio, usando questa espressione molto schematica che ho utilizzato prima, sul fronte del fuori e sul fronte del dentro. Mi spiego meglio. Che cos'è il fronte del fuori? Il fronte del fuori è quello del pericolo. In tale ambito di ricerca le sperimentazioni lavorano sostanzialmente secondo il paradigma operativo delle metamorfosi, mettendo in evidenza due tra i comportamenti elementari di fronte alle situazioni di pericolo. Ce ne sarebbero altri, ma due sono quelli elementari. Il primo comportamento è quello del fronteggiamento del pericolo attraverso il ripetuto esercizio, un ripetuto esercizio che abitui al tempo e alla possibile sofferenza fisica, obsidica, ad essi socconnessa. Ma si pensi anche qui ai riti sacrificati, che anche questa funzione avevano. oppure, per usare un esempio apparentemente eterogeneo, all'avversamento umanitario, alle prove, diciamo, a cui si sottopongono quegli atleti che vogliono imparare a sopravvivere in situazioni estreme. e questo è un comportamento elementare che non è neanche appannato della sola specie umana. L'autoproteggiamento è quello dell'impunizzazione, che quando accade assume le caratteristiche che si chiudono è una scola, la sua scola, la sua scola, la sua scola. L'autoproteggiamento è un pochino.